1. Il risultato di Tòfoc, il risultato del Tòfoc, è una magnitudine di 9.0, una grande 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 di non vedo la dimensione. 2. È venuto in Europa e ha ricevuto gli onori da parte del Parlamento Europeo perché è stato un bravo servo, un bravo schiavo di questa Unione Europea che è comandata dalle banche. 3 anni Il ris majestate, Dottning Silvia, chèara, èlskate Maka. Di eri da oxovor, Brølop sta. Io vil, derfe framföra ti lei, minan gratulazioni. 4 Grazie a tutti.